Adesso passa sotto l'arco del trionfo, il trionfo della gita al contadino, ma è perduto, non c'è la cavagna? Sì, però è che è un traduccio, è un attore proprio estremo, è in 5 passi, 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 La gita al contadino mangiamo la neve come quelli di una volta Anche i padani tanto si hanno detto, presentati, è buona, è solo una ferrua e il cornuto, il primo che arriva è il cornuto, ah cornuto, buona donna